Della Versilia di Pietrasanta, l'Europa e le sue istituzioni. È stato il tema di un concorso e una classe pietrasantina è arrivata anche a un'ottima posizione. Vediamo. Un'Europa unita, in pace, tollerante e più giusta e più vicina ai cittadini. È l'Europa che sognano gli studenti della seconda C dell'Istituto Barsanti di Pietrasanta, triunfatori alla decima edizione del concorso nazionale per le scuole Diventare cittadini europei, promosso dall'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo. I ragazzi si sono giudicati il primo premio tra le scuole secondarie di primo grado nella sezione audiovisivi, a contagiare alla giunta il mix di poesia, danza e musica sulle note di Occidentali Scarma, il brano cult di Francesco Gabbani e il testo appositamente rivisto per raccontare all'Europa che i nostri giovani sognano. Padrone di casa a Roma, il sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni, vicepresidente dell'AICRE che ha accolto la committiva studentesca nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Oltre 400 gli studenti che hanno partecipato alle premiazioni nel giorno della festa dell'Europa. A scuola abbiamo affrontato il tema dell'Europa, i ragazzi hanno recepito l'importanza dell'argomento e della tematica e con grande entusiasmo hanno aderito alla formula del video perché tecnologicamente sono molto più avanti di me insegnante e molto più avanti di noi docenti e sono recettivi in questo senso. Unendo a questo la creatività, il pensiero, una riflessione attenta su delle tematiche importanti è venuto fuori un video sinceramente particolare. Non solo l'Europa ma in Versilia a scuola si può anche imparare ad andare a...